buongiorno a tutti questo è mettiamoci la voce io sono maria grazia io sono francesco io sono sandro e io vorrei dire che oggi è più mettete c'è la voi la voce perché io non so mettiamocela tutti perché oggi nel momento in cui registriamo nella giornata di oggi siamo contestualizziamo la siamo l'11 luglio del 2021 ed è una giornata particolare per gli italiani sul fronte sportivo ma che va oltre il discorso dello sport in se stesso per investire proprio un senso più culturale perché mentre stiamo registrando a Wimbledon c'è la finale di Berrettini contro il Djokovic ma soprattutto direi proprio come persone interessate i fatti i fatti con tutto il rispetto per Berrettini ci mancherebbe ma è la finale degli europei in cui l'Italia sarà appunto di fronte all'Inghilterra che giocherà in casa a Wembley è anche una bella giornata io andrei a fare un giro vi saluto ci vediamo alla prossima no perché ci dobbiamo mettere la voce su una riflessione che abbiamo fatto e faremo insieme a voi perché questo fenomeno è un fenomeno anche vocale ci sono tantissime voci che intervengono in questo evento sono voci di tifosi voci di atleti voci di tecnici anche voci di cronisti che veicolano il questo fenomeno e per una panoramica sul mondo dei cronisti vi rimandiamo all'episodio con Marco Fantasia che non sarà impegnato come cronista lui segue la pallavolo per l'Italia ma 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 ha fatto cronista anche di calcio per parecchio per parecchio tempo alla radio radio cronista vi vi invito ad andarlo a riascoltare è così è una puntata molto interessante e salutiamo Marco veramente se dovresti ascoltare anche questa puntata qui visto che si parla di sport magari ci viene a trovare anche indifferita e niente quindi vogliamo chiacchierare con voi sul su questo fenomeno ma dal punto di vista vocale cioè quante voci intervengono in un fenomeno così di massa sei sette ci sono le nostre tre ecco bisogna quantificare partiamo dalle nostre tre per certi aspetti si potremmo anche partire dalle nostre tre perché ci può essere più o meno interessati di calcio la voce del dissenso però magari segui diciamo dal punto di vista così culturale e cosa succede alla voce quali sono le caratteristiche vocali dei tifosi ma io intanto se mi dici calcio e voce la prima cosa che mi viene in mente sono i boati nello stadio sono i cori dello stadio pur non essendo mai io stata allo stadio però come dire qualcosa che ha a che fare anche un po' con con tutto il folklore no che c'è che c'è di me è interessante questo aspetto che hai tirato fuori perché i cori quindi è musica la voce è collegata strettamente alla musica soprattutto in quelle manifestazioni come può essere appunto un evento sportivo in cui c'è collegialità c'è c'è unione ci sono più persone da una parte che si fronteggiano l'altra parte la controparte e si accompagnano e accompagnano questo evento con i canti beh abbiamo anche la controprova perché abbiamo appena superato una delle fasi della pandemia di covid e un aspetto che è stato straniante in ambito sportivo e questo lo dico anche da allenatore non solo da potenziale tifoso o osservatore di sport alla tv o in palestra era stata la mancanza del tifo la mancanza delle voci al di fuori del campo per cui guardando una partita di calcio si sentivano solo le voci dell'allenatore e dei giocatori e dei giocatori in campo ma i giocatori in campo non avevano più il supporto e il contesto sonoro del tifo stessa cosa per i ragazzini e ragazzine in palestra nei vari palazzetti a pallavolo a basket o in altri sport dove l'avere qualcosa di esterno che ti supporta o che invece cerca di distrarti o di influenzarti in qualche modo non c'è stato ed è stata una mancanza un vuoto infatti se mi ricordo i primi commenti dopo le prime gare fatte a porte chiuse senza nessun tipo di pubblico fosse di quanto fosse difficile entrare in clima partita di quanto fosse difficile switchare cioè fare un passaggio tra il momento dell'allenamento dove normalmente non c'è pubblico non c'è supporto audio alla partita dove invece c'è un clima diverso perché c'è il pubblico che canta che rumoreggia che incita infatti per molti osservatori sportivi diciamo analisti più che altro hanno fatto notare come l'effetto casalingo l'effetto chi gioca in casa e chi gioca fuori casa senza il pubblico non ha non ha tanto motivo di essere è vero che più così più scaltri potrebbero pensare sì vabbè ma il rettangolo di calcio ad esempio o di della palestra se è una partita di di volley è sempre quello quindi non ci dovrebbe essere differenza però il pubblico con loro voci influenza e quando non c'è stato il pubblico eppure le partite sono continuate l'effetto si è visto proprio nel numero dei risultati che giocare in casa è bravo fattore campo non mi veniva la parola il fattore campo non incideva così tanto c'è una parentela infatti ormai conclamata tra lo spettacolo dal vivo e lo sport dal vivo dal vivo infatti quindi è chiaro che in uno spettacolo teatrale o concerto simile il pubblico ha una partecipazione diversa perché la voce del pubblico la voce del pubblico la senti nel dissenso se c'è ma ormai negli ultimi anni il dissenso a teatro è più mascherato è difficile sentirlo però come dire l'applauso credo del finale o l'applauso sulla scena particolarmente coinvolgente credo che corrisponda al famoso boato appunto sull'azione per non dire hanno fatto gol esatto hanno ed è comunque un ed è comunque un ed è comunque una presenza che comunque si sente si sente si è ragione è interessante questa considerazione gli antichi romani avevano questa unione cioè quello suo parallelismo tra il mondo dello sport e il mondo dello spettacolo nell'antica Roma e gli eventi erano proprio veramente molte volte anche al confine e più che parallelismo molto più liquido sì perché anche lo sport era spettacolo e lo spettacolo era comunque qualcosa che mirava a tenere le persone lì per tanto tempo infatti a teatro si mangiava anche per distrarle dal punto di vista politico al pane infatti infatti però quindi il pubblico era anche più presente dal punto di vista sonoro e vocale anche anche a teatro anche durante gli spettacoli rispetto ad adesso dove è più più passivo sì è un'educazione che da un lato è apprezzabile ma dall'altro forse ti fa capire che sì che non c'è quella criticità intesa in senso buono anche nel mondo della musica fino al settecento già spettacoli di Mozart la gente andava a teatro e mangiava beveva parlava fischiava era proprio un'idea diversa era proprio un intrattenimento diverso poi solo nell'ottocento ha cominciato a diciamo a selezionarsi il pubblico e diventare sempre più un po' di elite ma comunque in ogni caso silenzioso e passivo non si può mai dire perché lo spettatore è come se è coinvolto invece nello sport il dissenso c'è ancora perché comunque non è solo il boato di a lei abbiamo fatto gol è anche proprio e lo esprimi con la voce però c'è un altro aspetto sempre vocale in realtà stiamo toccando punti che non mi aspettavo ma sempre vocale mentre lo spettacolo è una rappresentazione immaginata in precedenza ovviamente per cui si può essere d'accordo o meno si può apprezzare o meno l'interpretazione ma è una valutazione di quella cosa preparata in precedenza sullo sport c'è l'avversario cioè è una rappresentazione che va in scena in modo totalmente imprevedibile dove due in questo caso due ma comunque almeno due ecco almeno due contendenti cercano di prevalere sull'altro o sugli altri e il pubblico parteggia prende le parti di una e dell'altra è come se invece come se uno spettacolo teatrale fosse una contrapposizione tra due compagnie a volte c'è questo tipo di cosa nel teatro di improvvisazione che adesso insomma ha avuto un certo boom ed è strutturato spesso proprio così come una gara fra due o più insomma due squadre anche di improvvisatori e lì il pubblico parteggia prende le parti e allora sì che ha anche ragione di essere che sia attivo che si faccia sentire perché fa il giocatore in più di una squadra o dell'altra ed è per quello che poi vale il fattore campo che diceva Francesco prima ovvero la squadra in casa normalmente numericamente più rappresentata rispetto alla squadra ospite e quindi è più rumorosa e più il tifo è organizzato più il più la squadra o comunque la persona potrebbe anche essere un singolo giocatore nel caso del tennis si sente supportato si sente supportato e a casa non in un ambiente ostile ma in un ambiente familiare uno sport particolare sotto questo aspetto appunto vocale è il mio sport per eccellenza avendolo praticato in gioventù a livello agonistico ed è il ciclismo nel ciclismo pensiamo a una tappa del Giro d'Italia tante persone vanno lungo la strada ad incitare i ciclisti poi uno può essere tifoso di un ciclista o di un altro ma di solito anche quando ci sono non so un ciclista straniero che quindi teoricamente è avversario del nostro secondo in classifica che è italiano viene incitato lo stesso io lo trovo molto democratico a me il ciclismo anche per questo diciamo perché è molto è molto passionale la gente aspetta a volte per delle ore pensiamo quando sono quasi in salita che bloccano la strada quindi devi andarci quasi a piedi forse il giorno prima per aspettare questi ciclisti e lì mi viene in mente la canzone di De Gregori di De Gregori ma di Conte di Bartali che è fantastica poi oltretutto adesso siamo con la Tour de France in questo periodo a luglio quindi però è interessante e questo questo incitamento che è veramente democratico mi viene da dire viene fatto a livello corporeo battendo le mani così ma anche e soprattutto usando la voce una voce che incita proprio il ciclista che passa in quel momento guarda la cosa divertente in tutto questo che alla fine abbiamo iniziato parlando di voce e siamo arrivati chiaramente come sempre come ogni volta come sempre a parlare di ascolto perché l'abbiamo girata quasi immediatamente e quasi in modo naturale sull'ascolto cioè sulla reazione che le voci hanno su bravo bravo infatti una considerazione che tu facevi prima sul discorso della pandemia adesso sul discorso la collego a questa nuova impostazione sull'ascolto perché mi riferisco al fatto che non essendoci più le voci dei tifosi si sentono le voci degli allenatori tu sei un allenatore sai qualcosa gli allenatori gridano diciamo ma anche i calciatori tra se stessi e comunicano e comunicano e come quando c'è il pubblico speriamo che torni il più presto possibile naturalmente sono già tornati sono già tornati ma in maniera non contingentata diciamo comunque in ogni caso viene c'è un rumore talmente di fondo di queste 20.000 30.000 voci che attutiscono diciamo l'ascolto invece adesso infatti certi commentatori televisivi soprattutto all'inizio le prime partite diciamo di riapertura dicevano che riuscivano ad ascoltare a sentire le indicazioni degli allenatori in maniera proprio e commentarle quindi quindi insomma non per voler fare insomma vedere comunque l'aspetto positivo però questo fatto ha comunque fatto scoprire probabilmente anche qualcosa che prima era era nascosto quindi anche un appassionato di calcio magari ha potuto avere l'occasione di ascoltare quello che solitamente non riesce ad ascoltare io personalmente mi ha colpito una partita di serie A dello scorso campionato in cui l'arbitro redarguiva il portiere perché stava perdendo tempo e gli gridava proprio e poi si è avvicinato gli ha parlato si sentiva benissimo cosa ha detto e nella mia immaginario no per collettivo no per solo uno personale un metrino esatto uno nessuno e centomila è come se l'arbitro fosse una presenza eterna e non parlasse e invece come loro redarguiva e con il ragionamento lui poi questo calciatore ha chiesto scusa così per non essere ammonito però nel calcio questo non si fa in altri sport si ad esempio nel rugby nelle telecronache nella visione televisiva delle partite di rugby hai il microfono dell'arbitro aperto e anche nelle partite di pallavolo adesso quindi si sente quello che l'arbitro dice ai giocatori e quello che i giocatori rispondono attraverso il microfono dell'arbitro questo è democratico nel senso che c'è un certo punto perché comunque nel rugby l'arbitro parla molto con i giocatori e quindi voce 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 è fantastico voce sportiva voce sportiva ad esempio ci si è resi conto in alcuni sport di quanto si parli in campo nella pallavolo ad esempio durante le azioni si parla tantissimo ci si danno tante indicazioni in campo ma non solo l'allenatore anche tra giocatori tra giocatori uno dei calciatori di questa sera che speriamo si laureeranno campioni d'Europa intanto quando uscirà l'episodio lo saprete già lo saprete già noi no perché quando lo stiamo registrando lo sappiamo esatto il nostro calciatore in realtà appunto oriundo per la nazionalità italiana si chiama Giorginio è fortissimo gioca in Inghilterra e lui viene soprannominato il professore perché parla tantissimo lui è una sorta di regista in campo e quindi dà disposizione non solo agli atleti più più giovani diciamo ma parla tantissimo e questo è apprezzato da Matti nell'ambito della squadra se lo sentono che non parla Giorginio dice vuol dire è il professore lo chiama è una cosa che non si immagina almeno io che sono fuori da queste logiche non avrei mai immaginato perché ti immagini proprio tutti concentrati in silenzio sul corpo e ancora una volta è come se ribadissimo che la voce è comunque no l'abbiamo detto tante volte un aspetto strettamente correlato al corpo è una produzione del corpo quindi tutto sommato ci sta ecco voglio dire sorprende me che sono una profana però se ci penso non mi sembra così lontano come discorso è come alla fine immaginati come nelle manovre militari dove il coordinamento è fatto a voce eh sì dove si può chiaramente dove si può certo e lo sport è una sorta di metafora no bellica è derivato eh sì sì anzi per molte dinamiche ci sono derivato da da quello però non si può vedere tutto e quindi bisogna supportarsi dalle indicazioni anche sonore aumentare la percezione cioè non lo vedo io lo vede qualcun altro ah sì e ci si dà che è un compagno di squadra che alle spalle gli sta arrivando un avversario e ci si dà un feedback glielo gridi beh a pallavolo si chiamano gli schemi a voce durante l'azione anche si chiama ci si parla sì sì quindi nel senso c'è un dialogo molto sarà che il campo è ristretto per cui ci si sente interessante per forza si chiamano gli schemi cioè come dire li inviti come se al palleggiatore i giocatori chiamano lo schema al palleggiatore ecco sì sì che è il regista del gioco quindi è quello che fa il tocco intermedio sono tre tocchi a palla a volo quello che fa il secondo tocco quello che distribuisce la palla alza la palla per poi farla schiacciare dai compagni i giocatori i compagni di squadra li chiamano anche perché non può vedere tutto magari ci sono delle dinamiche che hanno portato un giocatore fuori posizione rispetto e si chiama un altro tipo di schema si chiama un altro tipo di gioco e quindi è tutto con la voce è tutto con la voce proprio perché gli occhi ingannano su queste cose ma invece il mettere in chiaro un concetto con un numero perché solito si chiamano numeri si si aiuta a fissarle cioè magari io posso pensare che tu in quel momento voglia fare questo o quest'altra cosa perché ti vedo che sei in ritardo magari tu invece ti sei reso conto di essere in ritardo ma puoi chiamarti quel tipo di gioco lo stesso perché pensi di arrivarci te lo chiami però nel senso è un modo per comunicare per coordinarsi e la voce e ogni tanto appunto cosa serve il tifo a cosa serve il tifo avversario a coprire a mettere in difficoltà tu immagini in un palazzetto anche con 50.000 persone si si magari con i tamburi e diventa difficile comunicare anche ad esempio ci sono delle situazioni di etichetta per cui non sarebbe fatto rumore non c'è un regolamento in questo noi abbiamo cominciato questa puntata del podcast parlando ancora prima della nazionale azzurra di calcio di tennis Wimbledon c'è un codice in questo momento sta giocando Berrettini li facciamo tutto il nostro in bocca al lupo però c'è un codice lì è l'arbitro tra l'altro lì è l'arbitro a moderare il pubblico si si e può sospendere anche la partita e può anche può anche far allontanare parte del pubblico o persone specifiche del pubblico dallo stadio che si ammazzano troppo gli steward dello stadio sono abilitati a a a defenestrare si si cosa è interessantissima questa cioè il tennis è quasi l'opposto del calcio sotto questo aspetto qua nel calcio invece appunto anzi il giocatore da solo nel tennis il giocatore da solo infatti non può neanche comunicare con l'allenatore col proprio tecnico è vietato comunicare durante la partita se non nei momenti dedicati in cui il giocatore chiama il regista cioè quando tu sei un attore non è che poi dici si giri verso il regista devi stare dentro anzi il regista può anche non esserci paradossalmente ad assistere allo spettacolo diciamo perché ormai quello è fatto e capisci comunque quanto può influenzare il pubblico proprio perché nei momenti come a pallavolo anche come nei momenti ad esempio del servizio non debba volare il tennis soprattutto non debba volare una mosca perché i giocatori hanno il proprio ritmo anche del gesto che viene che viene magari influenzato da rumori esterni da distrazioni esatto ci vuole una concentrazione enorme quindi ancora più di quello forse che si immagini perché questi sono fattori di disturbo possono diventare fattori di disturbo certo certo a proposito di ascolto invece appunto tornando sul versante calcistico e sul versante diciamo del tifoso una considerazione interessante che si può fare che paradossalmente il tifoso ha una voce più naturale allo stadio sì ecco questo non significa proprio incitare le persone a proprio a portare agli eccessi anche perché spesso il lunedì negli uffici arrivano persone senza voce ma anche la domenica sera gli allenatori soprattutto quando c'è il pubblico vabbè quando c'è tanto pubblico sovrastare il rumore del pubblico sì 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 è difficile e quindi questo non è un un elogio diciamo del lasciarsi andare con la propria voce però una considerazione si può fare che nel momento in cui siamo presi dal gioco noi possiamo poi dipende anche lì da carattere a carattere c'è chi si lascia più andare c'è chi si lascia meno andare paradossalmente far uscire una voce che in condizioni normali non faremo mai uscire e questo non è solo una questione di volume è proprio una questione proprio di lasciare libero proprio la propria vocalità diciamo che altrimenti non ci si permette a volte a volte si fanno delle esagerazioni pazzesche tipo ad esempio in questi giorni qui l'Italia per arrivare in finale ha vinto varie già partite nel semifinale quarti ottavi e i collegamenti per i poveri cronisti che dovevano collegarsi erano circondati da gente urlante che naturalmente non faceva un bel favore alla propria voce ci mancherebbe però ripeto paradossalmente era più era più sbloccata in quel frangente che che in altri beh come come un concerto è come un concerto lì perché lì fondamentalmente intanto sai cosa ecco mi fa venire in mente un'altra cosa sai cosa manca lì l'autoascolto che non ti senti tu probabilmente non ti senti è come cantare sotto la doccia no ancora peggio nel senso hai un rumore è talmente sovrastante soverchiante nelle orecchie che tu non senti quello che canti quello che urli quello che quindi lì la valutazione e l'autocritica vanno a farsi benedire perché non ti puoi riascoltare scattano dinamiche di escalation perché più c'è rumore c'è più entusiasmo e più ti rendi conto che tu puoi contribuire allora esagere perché c'è un fattore emozionale anche fortissimo fortissimo però appunto se parliamo di assenza di giudizio in quel caso proprio siamo nel nel regno dell'assenza di giudizio perché gli altri non sentono te perché diventa un rumore indistinto gli altri non sentono te non è un coro non è un coro polifonico e tu non senti te esatto per cui per cui sei più libero proprio perché non hai feedback esatto probabilmente questa è la mia è la mia interpretazione ovviamente però il fatto di non avere ritorno sì perché i cantanti hanno il monitor hanno il loro ritorno in cuffia oppure in cuffia certo perché devono ascoltarsi e se no c'è proprio tu allo stadio invece non hai il ritorno in cuffia non hai prova 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 niente no no anche proprio ed è il motivo per cui è più facile rimanere afoni allo stadio perché non ti controlli perché non ti controlli e perché non ti senti non ti senti certo certo e non te ne accorgi quando sei esatto è un momento in cui sfori diciamo così oltre ad essere un momento di liberazione emotivo come diceva Maria Grazia sì sì proprio e a volte anche corporeo di sblocco corporeo perché la voce il corpo accompagna da sempre quante volte l'abbiamo detto cioè la voce non è una cosa assettica diciamo un segnale acustico e basta è l'effetto corporeo di un di tutto un meccanismo straordinario e tutto il corpo partecipa alla produzione vocale ma anche chi deve invece stare attento alle proprie dinamiche vocali gli allenatori ad esempio risultano molto in difficoltà in un contesto di gara proprio perché il suono esterno impone o comunque influisce per cui magari non vorresti parlare con un volume così alto ma sei costretto perché devi sovrastare un suono esterno magari un un tifo particolarmente ritmato concitato eccetera fa ti fa allineare dal punto di vista ritmico per cui magari potresti parlare con un ritmo molto più incalzante rispetto a quello che useresti e se noti cosa fanno in determinati contesti gli allenatori raggruppano oltre a per un discorso di prossemica e tutto il resto raggruppano il più possibile i giocatori si abbracciano anche per poter averli tanto vicini da potersi sentire parlare in modo più più vicino più intimo sì sì proprio perché c'è bisogno di una dimensione più raccolta e dove hai più dinamica vocale da poter utilizzare puoi abbassare il volume puoi abbassare il ritmo puoi alzarlo e puoi essere un po' più isolato dal contesto è un'esigenza comunicativa si potrebbe dire a quel punto di vista reale quando appunto non c'è la possibilità di raggruppare i giocatori tipo ad esempio non so iniziano i supplementari quindi lo vedi hai visto anche cosa ha fatto Mancini però in corso d'opera che non puoi fermare il gioco è tipico degli allenatori quello di avere in campo delle persone che facciano da portavoce ad esempio Giorginio il professore cioè sostanzialmente già lui ragiona con la sua testa però magari si avvicina alla panchina l'allenatore gli dice qualche cosa lui torna in mezzo al campo ha libertà di girare per tutto il campo e naturalmente di usare la voce diventa portavoce a questo punto portavoce esatto bene facciamo tutti i nostri possibili scongiuri e tutti i possibili in bocca al lupo agli italiani che sono in campo oggi anch'io anche tu anche tu italiani che sono in campo oggi e voi che ci ascolterete speriamo che che abbiate festeggiato dai e comunque buona voce grazie a tutti